Ciao e benvenuto in Pecora Mannara. In questo video vedremo brevemente come verificare il funzionamento del tracciamento degli eventi in Google Analytics senza dover aspettare il giorno dopo. Se hai letto l'articolo precedente a questo video hai imparato come installare un codice di tracciamento e quindi avrai anche appreso che per poterlo verificare bisogna attendere prima di tutto che qualcuno ci clicchi e l'informazione sarà disponibile solo il giorno dopo in Google Analytics. Quindi a noi serve un metodo che ci permetta di verificare il corretto funzionamento del codice appena installato in modo di avere la sicurezza che tutto funzioni come dovuto. Per testare il codice di Google Analytics utilizzeremo Chrome e l'estensione Google Analytics Debugger. La prima cosa da fare è di andare nel webstore di Chrome e scaricare il plugin necessario. Trovi il link direttamente al plugin nell'articolo qui su Pecora Mannara. Cliccalo ed installa il plugin Analytics Debugger. Clicchiamo su gratis per installarlo e comparirà l'icona del plugin in alto a destra. A questo punto se hai letto l'articolo tracciare eventi e pagine con Google Analytics sai bene che ci sono due tipi di codici, uno per Universal Analytics ed uno per il vecchio e sai anche probabilmente quali sono. Se non l'hai ancora fatto ti consiglio di dare uno sguardo all'articolo perché ci sono molte cose interessanti. Qui vediamo come capire quale codice abbiamo installato e qui i tipi di codice che andranno usati nei due casi. Nel mio caso tracciando con Universal Analytics devo utilizzare, perché tutto funzioni, questo codice che utilizza il comando GA. Per eseguire un test ho creato una pagina dove ho inserito tre differenti tracciamenti per lo stesso link. Il primo è il codice corretto, il secondo è un codice contenente un errore ed il terzo è il codice vecchio. Ma ricordiamoci che noi abbiamo il codice di monitoraggio generale di Universal Analytics, quindi il vecchio codice non verrà riconosciuto e restituirà anche su un errore. Prima di procedere è importante attivare l'estensione che abbiamo appena installato. Quindi muoviamoci sopra l'icona, clicchiamo sull'icona dell'estensione in modo di far apparire l'indicazione ON. Vediamo di analizzare meglio la pagina. Clicchiamo con il tasto destro in un punto qualsiasi della pagina e diamo ispezione elemento. Si aprirà una console di ispezione del codice. Clicchiamo sul tasto console e con il pulsante in alto a sinistra cancelliamo tutto il contenuto della console. Per avere la console sempre in primo piano, se non è già sul fondo, portiamola cliccando sull'icona in alto a destra. La console traccia gli eventi della pagina in tempo reale ed in questo caso ci permette di vedere cosa accade quando clicchiamo sui nostri codici di tracciamento. Se ricarichiamo la pagina vedremo una lunga serie di messaggi apparire, però non riusciamo a vederli perché la finestra è troppo stretta. Allarghiamo quindi la console in modo da avere una panoramica del testo e ripuliamo nuovamente tutto quanto. Usciamo un secondo dalla console e riapriamo nuovamente, sempre con il tasto destro e poi ispezione elemento. Prima di verificare se il codice funziona correttamente andiamo a dare uno sguardo al codice nella pagina se è inserito correttamente. Cliccando sulla lente di ingrandimento e poi sul link che vogliamo ispezionare ci viene mostrato il codice del link. Come si vede in questo primo codice è presente ed è corretto. Se clicchiamo sul secondo link allo stesso modo il codice è presente, però questa volta non è GA ma GAT. Ho aggiunto semplicemente una T solo per generare un errore. Se andiamo a vedere il terzo invece è il vecchio codice che come dicevamo non verrà riconosciuto da Universal Analytics e ci segnalerà nuovamente un errore. Quindi ritorniamo sulla nostra console, ripuliamo il codice e clicchiamo sul primo link, quello funzionante. Come si vede il link funziona e mi apre la pagina di affiliazione e se torno sul pannello precedente vedo che nella console il codice di tracciamento è presente con tutti i parametri che ci sono nel codice. Base bundle, affiliato e l'URL della pagina di provenienza del link. Ripuliamo nuovamente il codice, clicchiamo sul secondo link contenente l'errore e vediamo che in console abbiamo la segnalazione dell'errore. Ed in effetti se ispezioniamo il codice una seconda volta vediamo che l'errore corrisponde. Ritorniamo alla console, ripuliamo e testiamo il terzo link. Anche questo come i primi due apre normalmente il link del prodotto senza alcun problema, quindi anche se il nostro codice di tracciamento è sbagliato i link funzionano lo stesso. Però se torniamo sulla console ecco che nuovamente ci viene segnalato l'errore. Ripuliamo e riproviamo nuovamente il primo codice per verifica. Ed ecco che il nostro codice funziona. Ti ricordo che in Pecoramannara trovi questo e molti altri articoli interessanti, quindi ti aspetto al prossimo tutorial e non dimenticare di iscriverti alla mia newsletter per non perdere i prossimi post. Get